dai andiamo 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 a scavare cosa è stato visto di ora ragazzi salta che salta siamo al nuovo episodio di la trialcraft finalmente guardate che bello i nostri non è venuta una figata pazzesca si infatti comunque la tua è più vabbè io l'ho presa naturale oh ho cresciuto le canne allora nello scorso episodio abbiamo iniziato a fare diciamo abbiamo trovato il posto e abbiamo iniziato a fare le nostre case adesso ho iniziato a fare tipo un piccolo l'otticello io ero nella casa però volevo allargarlo leggermente allora però il cellino lì allora non so se già quando cosa fa ah si sta da guardare ok siamo già a fare allora sono già esattamente come lo facciamo tutto tanto sono giue sono giudici sono giudici guardate che stagio guardate che gli andati facciamo così vorrei uscire questo allora hai permesso registramo c'è un posto aspettate facciamo un botto di slavio perché tanto c'è un botto di legno oddio e cominciamo questo a fare di questo allora ragazzi che ne ho tenuto un po di oro ferro c'è no ce l'ho per famigliate perchè ragazzi ciao ciao tu blocchi perchè quest'oggi i ragazzi vorremmo andare in guerra che si fa? eh i blocchi l'ho messo di ferro? si le vai? te li lombi fai ma chi fa senti dietro? facciamo quel troll non ho capito perchè non funzionano con le veri ma strano infatti invece avevi in blocco di ferro beh c'è una spiegata di ferro infatti di blocco di ferro? aspettate 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 iniziamo da quel limite ovviamente o la non so che questo si viene questo mi piace sta casettina ok andiamo ti piace la casettina? si è carina lei mi faccio gli attrezzi miei allora io devo farlo giustamente gli attrezzi ma non ho legno io allora lasciamo tutto poi ragazzi ci serve legno chiediamo a Kite ci piace un po' di legno? ma certo che no ti serve uno fastoncini? in la casa bastoncini o? perchè l'acqua? dentro casa bagno tutto ti serve uno bastoncini? la sigla quattro anni un gus 4.5 allora lasciamo iniziamo a fare un po io faccio il conto di quanto riguarda i tempi come spesso non spettaccio e' la giudice il voto perché ha fatto una città si può cuocere accettiamo un po' per me in un po' tanto che cuoci il nostro bello facciamo un po' di piccolo dai carino ci sta, è molto agriturismo facciamo o la boom facciamo così ai giusto qua non si dai su, ultimo lingotto ultimo lingotto si c'è il nostro bene allora ragazzi i primi episodi non faremo certo dei troll perchè tra i primi episodi no cioè se non fai se i primi episodi non li fanno ovviamente non sei nessuno sta malendo allora noi andiamo in minergia non ci credo cioè ho spaccato due pezzi di grano fatto ma hanno dato un solo semino due ahah così impari e noi possiamo partire si parti? allora ci abbiamo allora io direi di andare andiamo allora io vado di qua vai non scavamo tre blocchi di distanza no due blocchi così vedi questo è brutto male così è meno brutto male andiamo io arrivo al livello 6 se tu vuoi rifermata all'11 no al 6 è 7 con il diamante tu dici io arrivo al 6 al 6 al 11 11 no ragazzi una cavolata 6 è per i diamanti oh ferro 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 grave un colpito e poi scavano che nemmeno tutti andiamo giù andiamo andiamo a lavorare guarda come si scava guarda guarda come si scava dai andiamo andiamo a scavare no cosa è stato visto di chi scuola la mia lava per il giro la mia grazie no tutta la lava eh ma se tu senti gente che ti vuoi dire sulla lava eh stavo scavando sull'ancio accendere che ti hai lanciato si non c'è come fatto con una lava boom c'è non l'ho fatto con una lava adesso mi ci butto ma vediamo cosa ho fatto che bella è la lava non c'è boom sopraviglia ce l'ho io la tua zappa è l'unica cosa che non mi serve ah anche dei frecci ma buona bella mi serveva la spada un piccone adesso mi dovrei fare tutti i piccoli di ferro lag no se arrivo da arrivare lo sei beh dai a di corri 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 via 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 c'è ci sono talmente tanti materiali che mi sta laggando davvero mi dai un piccolo ti piacere ci sono uno e mezzo usato si ho messo l'acqua corri 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 lagga da molti tanto che non mi veda l'acqua lo porto giu no porto 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 su io metti lo atto tocca di anche se noi siamo veramente accortati con questo me lo dai un secondo che oh carbone me lo dai che volevo farlo un po' di to Really si aspetta intanto qua che la bomba me lo stai dietro una piccola base si per una piccola base se la creiamo qua dai metterla qua, questo non è si ricordo il capo di tipo perchè non posso mettere ok, allora allora se volete posso dare una spada di pietra no, una spada di pietra no oh guarda quanto ferro ho lasciato che avevo credo che avevo svelato per un secondo e altro altro troll dove? sopra sul tetto no sul tetto no sicuro? si perchè sa dentro i blocchi di qua non credo ma dove stai? tu non mi vedi? no ti colpiscono aspetta guardami ah io vedi? no davvero? ma ci stiamo qua e la troll? non c'è niente mi serve un po' la carbone me la dai? son confuso e non ti vedo tu lanciano ma non mi vedi girati aspetta aspetta mi fa male vedi? 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 mi stai per ammazzare ma scusa ma io mi ho perso anche il cibo ma vado bravo dai non ci posso vedere che sono morto con corretti eh vabbè si intelligente grazie quello lo sapevo ah ma cosa finisce intanto non so se vedi sei bug tipo c'era un solo pezzo di diamante non ci credo manco se lo vedo diamante non ci credo manco se lo vedo non ci credo manco se lo vedo diamante diamante non ci credo manco se lo vedo il ballo del diamante vediamo quanti lo trovo pilota tanto che non stai arrivando i fili messaggi 2 diamanti 3 diamanti 4 diamanti 4 diamanti oh ci facciamo la ripesta un caso eh ah si ciao ancora tocca il ci serve la blight 4 vabbè facciamo la ma adesso sono delle specie sei diamanti però se ci pensi dietro c'è un po' c'è lava questi diamanti facciamo due picconi di diamante prendiamo l'ossidiana andiamo nel nether e no ce ne facciamo un piccone di diamanti se no deve prestare non si può fare vabbè ma penso che noi troviamo un altro diamante ok cambia cambia però diamanti sei diamantucci sei diamantucci sei diamantucci sei 1 2 and italy quattro 15 senti 7 non diamanti c'è un piccino quando vuoi amore giusto diamo a daremente alziamo altri altri diamanti io amo diamant il tuo diamant non mi scava a fianco questo piede di canti che vuoi due diamanti io non li vedo ma sto sul mio tunnel cosa vuoi? ma che cazzo dici? sto sul mio tunnel io oh porca no non è vero sto sul mio tunnel vedi mio tunnel io tunnel vedi? un merdale chi è Ale? epic cosa? c'era qualcuno che scappava oh cazzo che succede? cerco di arrivare a te ragazzi l'avete visto? ha registrato vero? cerco di arrivare a te ok ha smesso ma l'avete visto raga? io mentre scavavo qualcuno mi scava a fianco io pensavo che era epic perché non lo potevo vedere ma ha anche colpito qualcuno non mi credi? dopo vediamo la registrazione e' come comunque salvato so qua vedi davanti a te ma se te colpiscono me vedi? provo colpimi tu provo colpi più in alto più in alto più in alto si chiara su dove è il mio? ragazzi l'ha successo ce l'avete visto? dove ora torna? guarda vieni vedi vieni vedi vieni vedi si te lo spaccati si si spaccati si si spaccati a soli oh scusa stavo a cliccare sui blocchi si te lo spaccati a soli si te lo spaccati a soli non è che forse è la trollcraft non lo so questo e' il ragazzo che ci fa le magliette quindi ringraziate il vabbè, non vedo niente oh, faccia di qua no, allora qua ero io che ho iniziato a scuola con te ah, caca allora, allora, allora arriveremo si, magliette sia eh? si, magliette sia anche si ho ritrovato la via magliette, magliette trovata anch'io ta 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 grande ho fatto un po' del sediano iolo iolo corri, corri, corri maio, male, male, male maio, ci stanno tre ragni secondo me ok, sal sai cosa dovresti fare? creare uno spawn di di boss già lo vediamo fa no vabbè 26 aspetta mi serve prestamela spada un secondo c'è una mano di pietra ehm no, c'è un creeper, devo uccidere c'è il mini zombie, c'è il mini zombie, c'è il mini zombie, ma c'è il mini zombie qua quanto? c'è il mini zombie tu cane, tu cane, tu cane, il mini zombie di merda no, ho lanciato piccone non so perchè l'ho lanciato sinceramente adesso muore perchè sei intelligente perchè mi lancia il piccone su di merda allora mi serve il creeper ragazzi ho due cuori buonasera buonanotte tu cane, non ho scoppiare ma porro cane scoppiare 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 wow e non mi ha dato niente ma tu cane, mi ha dato solo l'esperienza porro cane ma che mi frega il cane del creeper deve morire hashtag il cane del creeper porro creeper guarda prende questo ehm ci sei giocare a minecraft ovvio guarda ci giochite al posto di allora attenzione ovvio morto